Tutti i punti di vista, sotto il punto di vista della vigilanza stradale, per la vigilanza delle zone terremotate, per l'impegno nei settori specifici dell'autotrasporto, del controllo dell'autotrasporto, del trasporto dei mezzi, delle gite scolastiche e soprattutto è stato un anno impegnativo per quanto riguarda tutta la polizia stradale italiana. In futuro voi avete dei progetti, degli obiettivi, c'è il settantesimo anniversario alle porte? Il settantesimo anniversario verrà festeggiato il prossimo anno e vedrà numerose città coinvolte nei festeggiamenti, anche Terni probabilmente sarà inserita in questo programma e quindi sarà un anno davvero impegnativo, speriamo che sia altrettanto sereno. Cosa si sente ad augurare per il prossimo anno? Tanta serenità, tanta pace e soprattutto tanta salute perché è importante, la serenità negli affetti, la salute personale dei propri cari e questo è importante perché ci consente di vivere bene.